e le disse, vuoi fare il missito? Io l'ho preso per il colletto e ho fatto, ma che cosa vuoi tu? Non ho capito chi era Riccardo Podesse e adesso sono contento di essere il tuo ospite. Grazie, questa è una miss particolare. Chi sei? Che miss sei tu? Miss Lino America, anzitutto, buonasera a tutti. Alzati, alzati, fatti vedere. Vì? Buonasera a tutti, anzitutto, volevo anche io ringraziarti per dare l'opportunità di stare qui a Viguria, che è un'evoluzione molto difficile, perché tutte le ragazze sono bellissime, complementi, complementi per questa organizzazione bellissima che io sono pare te, solo te. Quando verrai a Miss Intimo? Mi piacerebbe anche indossare queste belle Intimo, hai lasciato con la voglia, guarda. Sarai presente, al trattore. Buonasera, a me l'Antonini, bellissima serata per te.